immaginate un mondo in cui non abbiamo nulla da temere un mondo in cui tutti sono onesti e buoni con gli altri compresi gli animali e la natura che ci circonda un mondo pieno di armonia e amore un mondo in cui tutti si fidano di dio e si amano l'un altro è un'utopia o una possibilità benvenuti oggi stiamo per affrontare il secondo tema del nostro manuale il peccato e la manifestazione di sfiducia nei confronti di dio questa immagine di un mondo armonioso felice buono che abbiamo evocato all'inizio ci riporta al paradiso descritto nella genesi sì è così che era all'inizio adamo ed eva vivevano in completa armonia e comunione con dio e tra loro vivevano in stretta relazione con dio pieni di fiducia in lui che li amava con tutto il suo cuore seppure creati dalla polvere della terra e quindi deboli e non autosufficienti si sentivano sicuri della relazione con il creatore che si prendeva cura di loro e gli ha dato loro tutto il mondo creato e anche la libertà cioè il libero arbitrio che da all'uomo il potere di accettare l'amore di dio e di fidarsi di lui o di rivoltarsi contro di lui il libero arbitrio e la fragilità dell'esistenza dell'uomo sono due doni che lo spingono tra le braccia del dio misericordioso almeno è così che dovrebbe essere ma sappiamo bene cosa accade in seguito il serpente semina il dubbio nel cuore dei primi esseri umani tentandoli a disobbedire a dio che in realtà significa perde la fiducia in lui perché l'uomo è stato invitato da dio a fidarsi di lui e quindi anche a rispettare i confini da lui stabiliti l'uomo è dotato di libero arbitrio ma dio lo invita a rinunciare a fare affidamento solo sul proprio discernimento e affidarsi del fatto che lui solo sa ciò che è giusto o sbaleato eppure Adamo ed Eva tentati dal serpente non si rivolgono più a dio non gli parlano non gli chiedono e questo è il momento in cui l'armonia e la felicità originarie scompaiono da quel momento l'uomo ferito dalla sfiducia rimpiangerà per sempre l'esperienza del paradiso e la sua prospettiva sul mondo su se stesso cambierà dolorosamente quando smette di confidare in dio e confida maggiormente in se stesso inizia a vedere il pericolo nel mondo che lo circonda nelle altre persone e paradossalmente anche in dio stesso è un'opera di satana che cerca sempre di allontanare l'uomo da dio può farlo soltanto distorcendo l'immagine di dio nella sua mente nel suo cuore per distruggere l'immagine di dio il serpente attribuisce perciò a dio cattive intenzioni se pensi che qualcuno abbia cattive intenzioni nei tuoi confronti è improbabile che ti fidi di lui vero così questa falsa immagine di dio questo virus della sfiducia che satana ha impiantato nei nostri cuori è sempre alla radice di ogni nostro peccato pecchiamo e ogni nostro peccato è un'espressione di sfiducia verso il buon dio è un rifiuto del suo amore poiché dubitiamo della bontà di dio delle sue buone intenzioni ci riveliamo a lui pensando di doverci occupare di tutto da soli e di sapere cosa è meglio per noi provate a guardare in un esame di coscienza i vostri peccati le vostre negligenze nei termini di ciò che sta alla loro radice quale è la radice di questo quel peccato e quando troverete alla radice la sfiducia è una falsa immagine di dio questo vi sarà di aiuto la prossima volta che sarete tentati di commettere quel peccato sarete più consapevoli di ciò che è alla sua origine e quindi avrete maggiori possibilità di evitarlo per grazia di dio vedere la radice del mio peccato è anche un segnale importante che mi indica ciò che dovrei chiedere nella preghiera dopo tutto sappiamo bene che non siamo in grado di affrontare il nostro peccato da soli dobbiamo quindi offrire la nostra sfiducia a dio e chiedergli di guarire la sua immagine distorta in noi la lettura del diario può aiutarci anche in questo santa faustina ci mostra la vera immagine di dio colui che infinitamente e sempre misericordioso soprattutto con i peccatori cioè con ognuno di noi faustina ha scoperto dio come colui che è affidabile perché non cambia mai è come la roccia su cui sempre possiamo rifugiarci l'esperienza delle nostre relazioni umane dimostra che noi siamo mutevoli le nostre opinioni i sentimenti il modo in cui trattiamo li ha altri cambiano dio è immutabile nel suo rapporto con noi immutabile nella sua misericordia possiamo quindi fidarci di lui senza paura proprio come sur faustina che pregava così tu signore dio mio non puoi cambiare sei sempre lo stesso i cieli possono cambiare e tutto ciò che è stato creato ma tu signore sei sempre lo stesso e durerai nei secoli ecco perché è così importante conoscere la vera immagine di dio che è mostrata nella bibbia e anche nel diario di santa faustina conoscerla non significa solo sapere avere una conoscenza di come è veramente dio ma conoscerlo con il cuore coltivando un rapporto personale con lui apprendosi a sperimentare il suo amore misericordioso nel sacramento della penitenza cercando di fidarsi sempre di più di colui che ha detto di sé io sono l'amore e la misericordia stessa nessun anima che ha invocato la mia misericordia è rimasta delusa né confusa anche se i peccati delle anime fossero neri come la notte quando un peccatore si rivolge alla mia misericordia mi rende la gloria più grande ed è un vanto della mia passione Gesù misericordioso veniamo davanti a te consapevoli dei nostri peccati e delle nostre debolezze tu sai quanto siamo deboli e quanto siamo tentati di non fidarci di te e rivelati a noi come un padre dal cuore misericordioso mostraci la verità del nostro cuore e guarisci in noi la falsa immagine di te fa che nulla ci separi dal tuo amore e che non ferriamo il tuo cuore con la sfiducia ma ci affidiamo con serenità alla tua misericordia grazie a tutti